Mangiare troppo sale può accelerare il processo di invecchiamento in chi ha problemi di peso. Lo rivela uno studio americano condotto da un team di ricercatori della Georgia Regents University di Augusta. Sebbene sia già risaputo che il sodio comporta un aumento della pressione per la prima volta, questi elementi sono stati messi in connessione con l'invecchiamento. Gli scienziati hanno scoperto che il consumo di grandi quantità di sale negli adolescenti in sovrappeso o obesi porta a un accorciamento dei telomeri. Ogni volta che una cellula si divide, i telomeri diventano più corti e quando sono troppo corti le cellule smettono di dividersi e muoiono. L'ipotesi suggerisce che alti livelli di sodio e obesità possono cooperare per accelerare l'invecchiamento cellulare. Diminuendo l'assunzione di sodio si rallenta il processo di invecchiamento, elementi cardine nello sviluppo di malattie cardiache.